Noi siamo tra gli ultimi paesi in Europa per penetrazione delle tecnologie digitali. Come mai secondo lei? Perché è indietro il sistema dell'offerta, cioè imprese e pubblica amministrazione non hanno ancora compreso quanto importante sia questa sfida. E' quanto ha detto oggi il professor Giuliano Noci, prorettore del Politecnico di Milano, intervenendo a Sciacca al convegno organizzato da FastWeb, MyTel e Oracle, dal titolo Touch the Future, che si è svolto al Verdura Golf & Spa Resort di Roccoforte. Investire in una società connessa è fondamentale sia perché impatta positivamente sul PIL pro capite, quindi su quanto guadagna ciascuno di noi, sia perché impatta sulla qualità della vita. Lo dimostrano le statistiche dell'Unione Europea che evidenziano quanto al crescere degli investimenti in una società connessa migliorino entrambi i parametri. Obiettivo finale dei lavori è illustrare l'evoluzione della tecnologia e il suo impatto sugli enti locali, comuni, ma anche le asla, anche dal punto di vista dei servizi al cittadino, attraverso le opportunità per sviluppare nuove applicazioni anche in ambito sanitario e della mobilità delle smart cities. È fondamentale tenere sotto osservazione quelle che sono le nuove tecnologie 5G, l'IoT, la blockchain, il cloud computing, la collaboration in termini generali, perché sono gli elementi che messi insieme aiutano a costituire un puzzle che la pubblica amministrazione può comporre, diciamo orientando quelli che sono i propri investimenti per essere più efficienti da un lato e avvicinare i propri cittadini con una comunicazione più efficace. Tra i relatori, anche Marcello Labella, dirigente della Polizia Postale, le opportunità offerte dalle nuove tecnologie, ha detto, sono comunque costrette a fare conti con la prevenzione dagli attacchi di ransomware. Come Polizia di Stato ormai da tempo seguiamo con attenzione quelli che sono i processi e le evoluzioni tecnologiche. Il cybercrime ovviamente non è una parola nuova, è un fenomeno che ormai si è diffuso in maniera importante e consistente. La Polizia di Stato con la Polizia Postale segue chiaramente questi processi, interviene, facciamo attività investigative a 360 gradi e anche per la pubblica amministrazione ci sono pericoli concreti, su cui ovviamente occorre vigilare, dando anche consapevolezza agli utenti.